A Disernia hanno preso il via ieri gli interventi di decoro urbano lungo Corso Garibaldi. Rimossi dieci pini saranno presto sostituiti da 24 aceri, una pianta quest'ultima ritenuta più compatibile con le condizioni climatiche del territorio. Ad indurre l'amministrazione civica all'azione, il fatto che quei pini fossero molto vecchi, per di più il processo di logoramento accelerato negli anni dallo smog del traffico veicolare, che contribuiva a metterne in forza la tenuta. Ulteriore potenziale pericolo, la crescita delle radici ad alterare e, in alcuni casi, a deformare il manto stradale. Ma tali valutazioni non hanno convinto tutti in città sulla bontà della scelta portata avanti dall'amministrazione. Già nel corso della conferenza stampa di presentazione, risalente a fine aprile scorso, gli interventi furono criticati da alcuni cittadini, secondo cui, in realtà, le condizioni dei pini non fossero tali da richiederne l'abbattimento. Le polemiche, neanche a dirlo, sono continuate nel tempo, fino ad oggi, via social. Un altro esempio di come ogni scelta di pubblico interesse, anche su questioni di importanza relativa, si presti a divergenze di opinioni sull'opportunità e sul merito dell'operato della pubblica amministrazione di turno. Ma tante gli interventi in quella centrale area della città vanno avanti. Prevedono altresì il rifacimento della pavimentazione del marciapiede, ove necessario, l'installazione di panchine e fioriere. L'impegno di spesa a carico delle casse comunali, circa 30.000 euro.